Forza armata e popolo sono tutt'uno! La scrittura con la quale dovrà mandare i documenti della propria vita in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Il carattere sostanziale e costitutivo di esso è di distruggere l'umana personalità. C'è un'unica che non mi piace di dire che se potevano i exterminati, io sarei molto contento perché ciò libererà il nostro paese. Ci sono un'unica che vive e che sono una menace perpétua. L'unica! 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 All'università in sezione ma suggerda! L'unica! In quel periodo si discuteva molto di quello che era il governo Tambrone e di come il governo Tambrone desse un grande spazio ai fascisti. La resistenza in qualche forma continuava ancora, però il clima in quel periodo era pesantissimo. La città di Genova, proprio la città in cui fummo così pesantemente contestati nello stesso anno 1960, il sindaco di Genova, Demo Cristiano, si reggeva in quel momento con i voti determinanti, i richiesti graditi e accettati del movimento sociale italiano. La città di Genova Il 6 luglio 1960 fu convocata qui a Porta San Paolo in una manifestazione antifascista. Questa manifestazione inizialmente era stata autorizzata, poi improvvisamente il giorno prima fu vietata per motivi di ordine pubblico. All'epoca non è che c'erano mezzi di comunicazione rapidi, quindi era oggettivamente difficile disdire questa manifestazione. chiaramente fu un atto voluto una provocazione da parte delle autorità di polizia e del governo, del governo Tambruni. La mia manutenza è una CGL che mi ha portato quel giorno qui, perché io ero scritto una CGL che lavorava al cantiere a Tormarancio, e c'erano tutti i compagni e i lavoratori che erano iscritti alla CGL, facevamo passaparola, Tormarancio era una zona di espansione, erano tutti i cantieri, e ognuno ha preso, ha smontato dal lavoro e siamo venuti qua. Cioè era un cortevo tranquillo, insomma. Va a capire il governo Tambruni che pensava allora, che c'era ancora il protestato di Stalin, che ne so io, tutta gente che protestava tranquillamente. I fatti di Porta San Paolo si collocano tra la rivolta di Genova e i fatti ben più tragici di Reggio Emilia, con 5 morti il 7 luglio, poi l'8 luglio, altri 4 morti in Sicilia. Diciamo così, in rilievo, l'importanza dei fatti di Porta San Paolo è data principalmente dall'uso, per la prima volta nel dopoguerra, della cavalleria, dei cavalli. Infatti nelle testimonianze parecchi, anche persone che avevano una certa esperienza di manifestazioni, di scontri duri, a tutti è rimasta impressa questa manifestazione, appunto per l'impatto violento di venire incontro questi cavalli. Grazie. 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 Guarda, io ricordo la carica e ricordo il fatto che molti non sono scappati, compresi noi ragazzi. L'ho vissuta come un'aggressione cattiva, una violenza nei confronti di persone, di lavoratori, di giovani, di sindacati, di partiti, che volevano dire la propria e che avevano pagato fortissimamente con sangue, sofferenze, carcere, eccetera. Quando sono arrivato qua ho visto i cavalli e lì vicino c'era un furgone, allora c'erano i furgoni a tre ruote che portavano una sabbia. Io mi sono nascosto là dietro che aveva paura che mi ha aspettato. Insomma, ero pure piccolo, voglio dire. E' possibile, insomma, di queste cose. Io dico, ma la scampo, ma la scampo, ma la scampo. Con un botto vedo questo che parte e io mi sono trovato lì dietro così, abbassato. E' venuto, tutti questi mi hanno preso pure a me, non mi hanno menato. I reparti scelere sono una specie di cavalleria motorizzata della polizia. Trovandosi i poliziotti sulla jeep al di sopra delle teste dei dimostranti e il loro compito diventava più facile. Un reparto che sta per terra e che è acciedato si trova maggiore difficoltà a fronteggiare una botte. Trovandosi sulla jeep e con un motore lanciato, con una macchina lanciata a grande velocità obbligava la gente a dispertersi. Aspiri ad una carriera avventurosa, appassionante, sportiva, vieni a far parte della polizia. Una carriera appassionante al servizio dei cittadini. La polizia offre ai giovani un avvenire. Il mio cognato era Antonio Sarappa, guardia di pubblico e sicurezza. Stava a Catania di servizio e poi è stato trasferito a Roma. aveva 30 anni perché del 29 31 anni, 30 anni insomma e si doveva sposare. Era successo che c'era stata una manifestazione a Porta San Paolo e lui era di servizio e nel tafferuglio tutto il movimento che hanno fatto lui è rimasto ferito. Senonché era il 5 di settembre che io sono partita il 6 si è cominciato a sentire male lui e il 7 mattina è morto. Ho ricordo di una violenza fatta da loro nei nostri confronti. ci hanno aggredito mi dispiace mortissimo ogni volta che qualcuno muore perché muore qualcuno però non è pensabile non riesco oltre che rammaricarmi a concepire l'idea di mettermi a braccia concerte e farmi pestare. il pensiero era solo lui e basta che non c'era più. Siamo stufi di questa vita non crediamo a quello che ci dicono i nostri ufficiali siamo degli sfruttati come gli operai che i nostri superiori vorrebbero che bastonassimo quando fanno sciopero ma la maggioranza di noi escluso qualche disgraziato fascista non vuole andare contro gli operai perché essi si battono pure per i contadini del meridione per i nostri compaesani emigrati all'estero e anche per noi sì anche per noi siamo entrati nella polizia perché eravamo senza lavoro ma credevamo che il nostro compito fosse quello di catturare i delinquenti e non quello di colpire i lavoratori. grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti